Io oggi vi parlerò di Kubernetes per l'Edge Computing e perché può rappresentare una soluzione efficace. Quindi cominciamo subito con l'agenda. Allora, quindi oggi di cosa parleremo? Oggi parleremo di cosa è l'Edge Computing e perché è importante, quindi partiremo da una brevissima definizione e perché è importante diventa via via sempre più importante. Poi parleremo di quali sono le sfide che l'Edge Computing e le soluzioni che proponiamo, perché come vedremo da un punto di vista tecnico l'Edge Computing presenta delle sfide che dobbiamo affrontare e che dobbiamo fare. Parleremo poi di Kubernetes per l'Edge e in particolare andremo nel dettaglio su uno dei componenti che vedremo che ci serviranno per sviluppare, diciamo, tutta la nostra soluzione, tutta la nostra architettura che è Elemental. Poi faremo una breve demo e infine qualche minuto per le domande. Quindi, Edge Computing, cos'è? Allora, l'Edge Computing non ha una chiara e univoca definizione. Sostanzialmente molte persone lo definiscono in modi diversi. Io oggi non ho voluto, diciamo, parlare delle diverse definizioni anche perché si sarebbe perso, diciamo, molto tempo. In questo talk useremo una definizione molto lasca, molto generica, in cui con Edge Computing andiamo a definire, diciamo, il fatto che la potenza computazionale viene portata fuori dal data center, viene portata vicino a dove ci sono i dati che vengono prodotti. Perché è diventato importante l'Edge Computing? Perché al giorno d'oggi sostanzialmente riusciamo, con poche centinaia di euro, a comprare, ad utilizzare dei device con delle caratteristiche già ottime. Vedremo che ci sono molte altre feature nell'Edge Computing. Perché sostanzialmente i dati vengono portati vicini per andare a ridurre i problemi in termini di consumo di banda, in termini di latenza e così via. E cosa importante dell'Edge Computing è che passiamo dal dover gestire tanti device nei nostri data center a doverne gestire tantissimi distribuiti geograficamente su posti diversi. Questo è, secondo me, il problema più complesso che dobbiamo affrontare quando parliamo di Edge Computing. L'Edge Computing è, diciamo, questo sarebbe un buon momento per chiedervi quanti tra di voi sono interessati all'Edge Computing, però magari tutti mi rispondete di no. Per cui non viene molto va... Per cui, diciamo, comunque ci sono delle statistiche che dicono che l'Edge Computing è una soluzione via via sempre più... una tematica sempre più affrontata in diverse aziende e in particolare, come vedete, ci sono anche delle numeriche importanti, insomma, 77%. Quindi, quali sono i problemi principali per quanto riguarda l'Edge Computing, le sfide principali che dobbiamo risolvere? Allora, l'Edge Computing rappresenta molte sfide. Molte sfide sono legate all'Edge Computing. Qua ho elencato quelle che secondo me sono le principali. La prima è che dobbiamo andare ad utilizzare device che hanno risorse limitate. Come si diceva prima, diciamo, ad oggi si possono usare, con poche centinaia di euro, dei device già, diciamo, sufficientemente potenti. La potenza di questi device però resta molto minore rispetto a quella che siamo abituati ad avere i nostri data center, i nostri cloud provider e così via. Poi abbiamo dei problemi di latenza. I problemi di latenza, perché, diciamo, sono grandemente risolti dall'avere delle connessioni mobili, pensiamo al 5G, che sono via via sempre più stabili, resta comunque un ordine di grandezza e di latenza diversi rispetto a quelli che siamo abituati ad avere i nostri data center nel nostro cloud provider. Problemi di sicurezza. Perché? Perché avere degli edge device ci porta a delle dinamiche di sicurezza che sono qualitativamente diverse rispetto a quelle che abbiamo nel nostro data center. Immaginate di avere un computer che mettete in un campo per misurare l'umidità, le condizioni del campo, per sapere quando bisogna irrigare il campo, ad esempio. Chiunque potenzialmente potrebbe andare su questo campo, prendere il nostro device, replicarlo, e quindi diciamo andiamo ad introdurre tutta una serie di problematiche di sicurezza qualitativamente diverse rispetto a quelle che siamo abituati nei nostri ambienti tradizionali. E, come vi dicevo, problema di scala. Il problema di scala, ho dedicato una slide apposta, perché immaginate di dover gestire migliaia, decine di migliaia di device, e quindi noi come facciamo a gestire tutti questi device, l'onboarding, cioè l'installazione iniziale del nostro device, delle applicazioni che ci vogliamo portare sul nostro device. Come facciamo a gestire la distribuzione delle nostre applicazioni che poi vogliamo vengano messe in esecuzione sul nostro device, a gestire le nostre applicazioni. Cosa importante, vogliamo anche gestire il patching, sia del sistema operativo, sia delle applicazioni, che diciamo sono due temi che anche per motivi di sicurezza dobbiamo assolutamente tenere conto nel 2023. E chiaramente dobbiamo fare tutto questo in modo efficiente, efficace, perché immaginiamo di avere migliaia di device, se abbiamo migliaia di persone a gestirli, però presenterebbero delle problematiche di sicurezza, comunque perché svolgere operazioni manuali porta sempre delle problematiche di sicurezza, però vogliamo avere una soluzione che si risolva sia le problematiche di sicurezza, sia che... Passo... ok. Ok. E scarico... Ok. Quindi, diciamo, qui ho riassunto un attimo quelli che sono i requirements per l'edge computing. Quindi, cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere una delle soluzioni che abbiano un piccolo overhead, ok? Perché se abbiamo già dei device piccoli, noi vogliamo che la maggior parte della potenza computazionale di questi device sia dedicata alle nostre applicazioni, non alla gestione dei sistemi, perché se no diventa poco utile. Vogliamo delle soluzioni che siano progettate per avere le operations totalmente automatiche, o quanto più automatiche possibili, e vogliamo delle soluzioni che siano flessibili, perché sugli edge device possiamo avere diverse architetture, diverse tipologie di macchine che andiamo a gestire, e così via. Come vi dicevo prima, cosa più importante dal mio punto di vista, dobbiamo avere delle soluzioni che siano progettate per scalare fino a migliaia, decine di migliaia di sistemi che andremo a gestire. Quindi, Kubernetes per l'edge computing. Diciamo, uno quando dice Kubernetes per l'edge computing dice, vabbè, qua tu vuoi kubernetes tutto, no? Ok, Kubernetes è un po' una buzzword che si usa anche ad oggi, vabbè, kubernetesiamo anche l'edge. In realtà, quali sono i vantaggi? In realtà, abbiamo prima di tutto un vantaggio che noi con Kubernetes, come abbiamo già sentito più volte oggi, no? Abbiamo una piattaforma computazionale comune su tutta la nostra infrastruttura. Ok? E quindi andiamo a gestire le nostre applicazioni allo stesso modo ovunque esse siano erogate. Siano erogate nei nostri cloud, nei nostri data center, nel nostro ambiente di sviluppo, sui nostri device edge. Ok? Quindi, immaginate di avere un device edge, ad esempio il computer di prima che mettiamo nel campo per vedere quando dobbiamo irrigare. Ok? E questo device lo gestiamo attraverso Kubernetes, perché mi espone magari delle app Kubernetes e noi andiamo a deployare la nostra applicazione lì sopra. Abbiamo un device solo, non ha l'alta disponibilità. Vabbè, non ci avremmo neanche senza Kubernetes essendo un solo device. E in più, noi, attraverso Kubernetes, abbiamo gratis una serie di features che tante applicazioni moderne oramai richiedono di fatto. Ok? Tipo la service discovery. Qua ce ne sono scritte alcune, ok? Ce ne sono tante altre. Pensiamo ad esempio a service discovery, no? Cioè, andare a sviluppare nella nostra applicazione un meccanismo di service discovery è una cosa molto complessa che poi dobbiamo sviluppare, dobbiamo mantenere, dobbiamo farla in sicurezza. Kubernetes ce la dà già gratis perché reinventarci la ruota. Pensate anche all'out balancing, all'auto scaling, insomma, le cose che vedete qui. Però, qual è il però? Però, abbiamo che Kubernetes non è scusatemi, Kubernetes non è sufficiente per l'edge computing perché? Perché Kubernetes non è un sistema operativo. A noi piacerebbe che Kubernetes fosse un sistema operativo per poterlo, diciamo, usare come controllore principale delle nostre applicazioni, però non è un sistema operativo. Ok. Noi a che situazione vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare alla situazione che vedete qui a destra, ok? Cioè, abbiamo il nostro hardware. Poi, abbiamo una black box che qua, diciamo, per farla vedere meglio l'ho fatta a grigia una gray box, ok? Che ci, che espone delle api Kubernetes, la nostra applicazione poi dialoga direttamente con le api Kubernetes. Ok? A noi quello che interessa alla fine è che la nostra applicazione, vedete il puntatore, sì? La nostra applicazione dialoghi direttamente con le api Kubernetes e così la gestiamo direttamente da lì. Ok? Quindi, di quali ingredienti abbiamo bisogno per arrivare a questa situazione? Ci serve prima di tutto una distribuzione Kubernetes molto leggera, il più leggera possibile, ok? Perché vogliamo poco overred. Oltre alla distribuzione Kubernetes più leggera possibile, vogliamo avere anche il sistema operativo più leggero possibile, Perché l'overred deve essere il più basso possibile. Poi, abbiamo anche la necessità di andare a gestire tanti cluster Kubernetes, perché appunto immaginate di avere migliaia di device, questi migliaia di device rappresentano un'area di principio, migliaia di cluster Kubernetes, no? Dobbiamo avere qualcosa che ci permette di gestire migliaia di cluster Kubernetes, no? Ok? E soprattutto c'è questo fatto che è il terzo punto che è quello su cui ci concentreremo d'ora in avanti, che è che Kubernetes, come dicevamo, non è un sistema operativo. Ok? Ci serve un modo per gestire il nostro sistema operativo in modo cloud native. Ok? Adesso andiamo a spiegare, poi andremo a spiegare bene cosa significa questa cosa. Ok? Quindi, adesso andiamo ad aprire la nostra gray box e cominciamo a definire uno stack tecnologico che ci possa garantire tutte le nostre richieste. quindi cominciamo così. Allora, come distribuzione Kubernetes minimale possiamo pensare di usare K3S. K3S cos'è una distribuzione Kubernetes minimale che, diciamo, è usata in scenari di produzione standard, forse è la più usata nel mondo, penso che sia più usata nel mondo per quanto riguarda le distribuzioni Kubernetes compatte. poi possiamo usare Rancher per gestire tanti cluster Kubernetes e Rancher è proprio uno strumento con il quale noi possiamo andare a gestire dieci, cento, mille cluster Kubernetes se non abbiamo nessun problema a gestire un'elevata quantità di cluster Kubernetes con Rancher. Poi, come sistema operativo compatto, cosa possiamo prendere? Possiamo prendere un sistema operativo quanto più compatto possibile. Diciamo, in questo stack tecnologico, andiamo a prendere SleMicro che è una distribuzione Linux immutabile. Cosa significa distribuzione Linux immutabile? Significa che noi non andiamo mai a cambiare quello che è presente all'interno di SleMicro e andiamo a fare degli update del nostro sistema operativo in maniera intelligente, cioè in maniera intelligente, in maniera diversa da come la facciamo di solito, andando a sostanzialmente fare un AB updating, per cui ci teniamo la nostra partizione su cui in esecuzione il nostro sistema operativo, nel momento in cui dobbiamo fare l'update andiamo a scrivere tutto quanto su un'altra partizione, nel momento in cui l'update ha successo per cui riusciamo a riavviare il sistema operativo con la nuova partizione, questa diventa la nuova partizione su cui in esecuzione il nostro sistema operativo, nel momento in cui faremo l'update torneremo sull'app. Questo è un po' diciamo come funziona anche l'update sui device Android, così siamo più sicuri che l'update vada a buon fine e questo è cruciale nell'edge computing perché se in seguito ad un aggiornamento ho dei problemi di che la macchina non funziona più, deve uscire qualcuno, proprio andare sul campo, proprio, nell'esempio di prima, proprio sul campo a capire come sistemarlo. va bene. Infine, Elemental. Elemental è il componente che ci permette di gestire in modo cloud native il nostro sistema operativo. Cos'è Elemental? Elemental è uno stack software che ci permette di gestire in modo centralizzato e cloud native i nostri sistemi operativi attraverso Kubernetes. Ok? È composto principalmente di due parti che sono Elemental OS. Elemental OS cos'è? Elemental OS è sostanzialmente un sotto insieme della distribuzione SLE Micro di cui vi parlavo prima in cui abbiamo tolto tutto, abbiamo lasciato praticamente il kernel systemd e altre due robe insomma, proprio più possibile e contiene solo le componenti necessarie per dialogare con il nostro cluster Kubernetes su cui abbiamo installato il nostro Elemental Operator. Elemental Operator è un'altra componente del nostro stack, del nostro Elemental che andiamo ad installare su un cluster Kubernetes e che ci permette poi di gestire tutti i device che abbiamo a disposizione. Ok? Quindi, a questo punto cominciamo con la demo perché mi volevo anche fare un po' del male e quindi in cosa vedremo in questa demo? Allora, in questa demo vedremo come installare l'Elemental Operator su un Rancher Management Server perché perché quello che abbiamo detto con Elemental va bene per qualunque cluster Kubernetes abbiamo un'integrazione con Rancher che ci permette anche di avere una web interface per cui riusciamo facilmente a gestirlo poi andremo a creare tutte le risorse Kubernetes necessarie sul nostro Rancher Management Server infine andando avanti genereremo una ISO del sistema operativo e avvieremo una macchina virtuale con l'ISO generata e poi quello che vedremo è come creare un cluster Kubernetes tramite Rancher sulla sulla macchina che abbiamo fatto partire con l'ISO prima tutto quello di cui parlo oggi lo trovate sulla documentazione di Elemental qui io ho aggiunto anche la parte di graphical user di web interface che diciamo andrà si funziona molto insomma è molto più chiara quindi per installare prima cosa installiamo un cluster Rancher io ce ne ho già uno installato chiaramente potete seguire delle istruzioni qui se ne avete bisogno poi andiamo ad installare sul nostro cluster Rancher tutte le risorse necessarie per dialogare con Elemental ok quindi dovremmo eseguire questa operazione io l'ho già eseguita per portarmi avanti perché se no nella demo non si portava molto valore andiamo ad installare la GUI cioè andiamo ad installare un plugin di Rancher con il quale riusciamo a gestire anche i nostri cluster Elemental e la vera demo inizia adesso quindi esco da qui voi vedete ok ok quindi qua abbiamo il nostro Rancher ok non so quanti di voi conoscono già Rancher come sistema per la gestione di cluster questa diciamo è la dashboard di gestione di Rancher qua vedete c'è un cluster che ve l'ho già preparato perché così vi faccio vedere velocizziamo un po' i tempi insomma comunque noi una volta che abbiamo preparato le nostre il nostro cluster Kubernetes con i comandi che c'era scritti nella slide da qua compare una nuova voce per chi lo conosce c'è una nuova voce OS Management ok OS Management cosa mi dice in OS Management è presente tutto quello che ci serve per per andare a definire il nostro sistema operativo di base ok quindi cominciamo subito da Manage Registration Endpoint Create ok adesso vado un po' avanti e vi spiego dopo ok adesso andiamo a prendere questa configurazione ok la mettiamo qui adesso ve la spiego quindi noi qui cosa stiamo facendo noi qui stiamo creando una stiamo sostanzialmente rispondendo a tutte le domande che ti viene fatta quando installi il sistema operativo noi rispondiamo prima ok per cui tu quando fai partire il tuo sistema con la chiavetta o da pixel cioè voglio far partire per l'installazione del sistema operativo Linux ti vengono fatte una serie di domande e tu devi dare risposta noi in questo caso vogliamo automatizzare questa procedura le domande rispondiamo prima perché sappiamo già prima come sono fatti i device ok quindi andiamo a definire un password di root sufficientemente sicura andiamo a dire in questo caso dove si trova il disco su cui vogliamo installare la nostra il nostro sistema operativo qua faremo su una macchina virtuale però diciamo per cui andiamo a prendere il disco VDA chiaramente quello che facciamo sulla macchina virtuale avrebbe sta simulando quello che faremo sulla macchina fisica ok poi andiamo a appiccicare anche una serie di label alla nostra macchina ok cosa ci servono queste label ci servono a identificare le nostre macchine una volta che saranno installate quindi ad esempio le label possono essere delle caratteristiche specifiche della macchina ad esempio il manufacturer eccetera oppure delle label che ci aggiungo io cioè dico questo device si trova in questo posto quindi questo location create lui ha creato un registration endpoint e mi dice di scaricare una immagine del sistema operativo download vediamo e vediamo cosa c'è qui dentro download test registration ok qui cosa vedete qui vedete sostanzialmente due cose una url che è dove si trova il mio cluster wrench e il certificato ok per cui noi quando andremo ad installare il sistema operativo vedremo come prima cosa contatta il cluster wrench ti risponderà con un certo certificato che è questo qua e per cui fidati fatti controllare da lui ok quindi qua andiamo a prendere tutto lo copiamo e passiamo su una macchina virtuale che ho fatto partire in precedenza se funziona si funziona ancora bene e andiamo a copiare il nostro contenuto qui dentro fast perché sono andato su questa macchina virtuale perché noi adesso creeremo proprio la ISO del sistema operativo che faremo partire ok quindi per creare questa ISO lo devo fare da una macchina che avrà la stessa architettura che vuole far partire il mio Mac è un'arma e mi serviva una x86 64 quindi da qui chiudiamo e salviamo il file qui vedete qui c'è questo script che si chiama Elemental ISO Registration Test ok lui adesso sta migliorando la grafica comunque sta scaricando la ISO di Elemental che è questa qui vedete Elemental che è l'ISO di base e adesso lui sostanzialmente monta la ISO di base ci aggiunge i comandi necessari che sono definiti in quello YAML che abbiamo preso prima e così avremo la nostra ISO completa poi avvieremo una macchina virtuale con la nostra ISO completa macchina virtuale vi ricordo noi adesso l'operazione che simuliamo è quella di salvare la ISO su una chiavetta USB o su pixel dove ci abbiamo voglia e stiamo avviando il nostro sistema fisico quindi qua creiamo una nuova macchina virtuale local qua ci sarà un'immagine così qua sta qua nella directory demo qua adesso va beh gli andiamo a dare un po' di spazio andiamo anche a dargli un disco apposta che tanto l'ho creato apposta il demo andiamo a creargli un disco ok scegliamo il volume avanti ok qua adesso dobbiamo fare un paio di operazioni prima di avviare la nostra macchina che adesso vi spiego brevemente allora prima è che dobbiamo avviare il nostro device con una wifi e non con un bios ok la seconda è che dobbiamo simulare un TPM 2.0 cos'è TPM 2.0 TPM 2.0 è sostanzialmente un modo per essere sicuri che da un punto di vista proprio hardware la macchina sia sicura che è proprio quella macchina di che abbiamo installato noi cioè se uno va come vi dicevo prima prende copia fisicamente il nostro device cerca di agganciarsi al nostro rancher con il device copiato questa cosa viene bloccata perché genererà un certificato TPM differente ok perché appunto come vi dicevo prima abbiamo dei problemi di sicurezza qualitativamente diversi rispetto a quando nella situazione in cui siamo nel nostro cloud provider o nel nostro data center start la nostra macchina qua vedete qua lui sta partendo con l'installazione di Elemental perché abbiamo fatto partire con la chiavetta il nostro sistema operativo lui qua parte con tutta l'installazione ok adesso vedete qua lui sta per prima cosa creando una un certificato col TPM lo sta mandando al nostro Rancher per dire io sono quella macchina che è identificata da questo certificato TPM ok adesso qua si avvia una volta che si è avviato parte l'installazione vera e propria ok qua magari non si vede bene ma non sta dicendo sta facendo sostanzialmente l'installazione vera e propria ok una volta che la nostra installazione sarà finita vedete qua lui adesso è partito se facciamo così giornal giornal ctl ok vedete lui qua sta facendo una serie di operazioni in cui sta andando a prendere tutte le cose che gli servono e in base a quello che gli sta dicendo il nostro Rancher ok quindi questo lo lasciamo lì nel frattempo andiamo torniamo sulla nostra interfaccia ok da qua andiamo in inventory of machines qua vedete che abbiamo due macchine ok questa che è quella che stiamo installando adesso perché l'ha già riconosciuta ha già dialogato cioè non è ancora disponibile perché la stiamo installando e questa che avevo già preparato io per avere qualcosa di pronto da far vedere e che vedete che attiva da un po' di giorni e così via per cui diciamo abbiamo tutte le nostre macchine fisiche in questo caso virtuali però diciamo funzionerebbe uguale quella macchina fisica definita all'interno del nostro Rancher ok quindi cosa possiamo fare una volta che abbiamo le nostre macchine noi abbiamo detto abbiamo fatto tutta questa roba perché vogliamo gestire cluster Kubernetes non perché vogliamo gestire macchine virtuali ok quindi andiamo su cluster management di Rancher ok creiamo un cluster ok per chi conosce Rancher vedete che qua è comparsa una nuova tile una nuova tessera elemental ok quindi andiamo ad installare il nostro cluster Kubernetes sui su tutti cioè su sotto insieme di nodi su cui vogliamo installare un cluster Kubernetes ad esempio chiamiamo il nostro cluster Kubernetes test e diciamo vammi a installare il cluster Kubernetes cioè diciamo un certo pool di macchine nel nostro cluster Kubernetes per su tutte le macchine che hanno una certa label ad esempio ok schiacciamo definiamo poi come in Rancher diciamo tutto quello che ci serve ad esempio la nostra versione di Kubernetes insomma andiamo a definire tutte le proprietà che vogliamo nel nostro cluster Kubernetes ok nel momento in cui schiacciamo su create lui andrà e una volta che l'installazione del sistema operativo sarà completata installerà anche il nostro cluster Kubernetes e a quel punto cosa succederà se andiamo sul cluster che ho già installato che è questo sull'user cluster che è quello che ho preparato prima sulla macchina virtuale già pronta noi vediamo il nostro cluster Kubernetes all'interno di Rancher e lo possiamo gestire così come lo gestiamo il nostro cluster per cui di fatto qua abbiamo una macchina che sta rispondendo a delle api Kubernetes macchina fisica che sta rispondendo a delle api Kubernetes quindi questo era un po' tutto quello che volevo farvi vedere presto miglioreremo l'interfaccia grafica e automatizzeremo anche il processo di creazione dell'ISO della nostra immagine ISO dalla interfaccia grafica e creeremo a breve una dei canali ok per la gestione dei sistemi operativi per cui sostanzialmente diremo noi abbiamo questa versione del nostro sistema operativo questa versione del sistema operativo possiamo fare l'upgrade su tutti i nostri cluster del nostro sistema operativo e niente se avete domande sono qui o anche dopo e grazie presentazione molto bella grazie mille allora abbiamo sì un qualche minuto per fare delle domande comunque dopo questa sessione c'è la pausa per un caffè quindi se qualcuno ha una domanda al volo volentieri arrivo subito per dispositivi che non hanno dispositivi remoti quindi Edge che non ha una connessione reliable è gestita da Rancher sì sì non c'è assolutamente Rancher non prevede di avere una connessione costante con il con il cluster che gestisce chiaramente se tu fai delle operazioni da Rancher le mandi sul cluster nel momento in cui c'è la connessione e quell'operazione aspetterà fin tanto che non ci sarà la nuova la connessione non funzionerà ancora però diciamo assolutamente Rancher funziona in scenari con scarsa connettività ho una domanda veloce io al momento il deployment più grande numeroso che avete di questo sistema è un ambiente di test di prova avete già in produzione qualche cosa numericamente significativo basato su questa architettura abbiamo sì cioè ce li abbiamo non so non so bene dirti gli ordini di grandezza però ce li abbiamo ce li abbiamo arrivo supportate anche device arm come architettura è in roadmap al momento ok direi che se non ci sono altre domande siamo in perfetto orario quindi grazie ancora Luca dell'intervento e ci vediamo qua tra una mezz'oretta oi oi Buon appetito! Buon appetito!